Dottor Stimamiglio, il ruolo del medico di medicina generale nella riforma della sanità della Liguria, in particolare nei confronti della cronicità, è fondamentale perché siete gli unici a prendere in carico la persona cronica. Sì, beh, questo è vero, nel senso che c'è un ruolo diverso della medicina territoriale in Liguria. Io, beh, intanto specifico una cosa, cioè che è molto di moda parlare di cronicità, ma in realtà il nostro lavoro non è solo cronicità, ma è anche molta acuzie, nel senso che tutti i giorni vediamo persone, non so, con la febbre o col mal di pancia o che altro, quindi cercherei di rimarcare il fatto che non è solo quello. Ecco, per quanto riguarda invece il particolare sulla cronicità, diciamo che in effetti si è centralizzata molto l'attenzione del piano, sia sul medico di famiglia che sul cittadino. Sul cittadino, perché il cittadino è al centro, cioè ci sono delle linee guida, ci sono dei PDTA, ma poi il medico di famiglia concorda con il cittadino il piano da fare per l'anno successivo, e firmano tutti e due, no? Quindi, tu sei... Un contratto tra il cittadino e il medico. È un contratto, un contratto che tiene conto, diciamo, di quello che viene scritto dalle società scientifiche, ma tiene soprattutto conto del cittadino. Per quanto riguarda il medico di famiglia, sicuramente è diverso che in Lombardia, nel senso che in Lombardia ci sono i gestori che possono essere anche non i medici di famiglia, ma le cooperative dei medici di famiglia. E qua si è voluto dare fiducia al medico di famiglia che conosce la situazione territoriale.